Partono oggi gli appuntamenti della Camera di Commercio Chieti-Pescara organizzati nell'ambito della Settimana Europea della Cultura Digitale. L'ente camerale ha deciso di aderire con un programma coordinato dal punto di impresa digitale che prevede 12 eventi tra Chieti e Pescara. I destinatari delle iniziative messe in campo dalla Camera di Commercio e dall'Agenzia di Sviluppo sono le imprese, i professionisti e gli studenti interessati dalle novità che stanno cambiando radicalmente il modo di lavorare. Tutti gli indicatori ci dicono che questo territorio, in particolare l'Abruzzo ma l'Italia in generale, è un po' in ritardo rispetto ai nuovi processi che interessano ormai tutto il mondo della produzione, del lavoro e dei servizi. Camera di Commercio è impegnata assolutamente a portare avanti iniziative di questo tipo. C'è la settimana europea della digitalizzazione e ci sono tanti eventi, si parte con il web marketing ma poi si parlerà dei servizi digitali di Camera di Commercio e anche quali sono le opportunità per tutte le imprese. Dobbiamo partire da un dato che il tessuto imprenditoriale è costituito da piccole e micro imprese. Ovviamente queste sono quelle che subiscono maggiormente questo ritardo. Vanno accompagnate e assistite appunto per tutte quelle che sono le opportunità che una digitalizzazione d'impresa può dare dal rapporto in maniera diciamo così digitale con la pubblica amministrazione ma anche a scoprire quelle che sono le possibilità che attraverso strumenti digitali possono essere di supporto all'attività imprenditoriale. Come agenzia di sviluppo in questa settimana abbiamo un appuntamento sul risk management che ovviamente dà lo sguardo e lo spaccato all'impresa di capire quali sono attraverso l'analisi dei propri rischi le opportunità per far crescere la propria impresa.